Il carcere di Gazzi è tra le strutture di detenzione più affollate d'Italia, un'emergenza accertata da varie ispezioni istituzionali per le quali occorre intervenire in tempi brevissimi. Sulla scrivania del Ministro della Giustizia Paola Severino, adesso c'è anche la lettera del Sindaco di Messina, Giuseppe Buzanca, un vero e proprio appello al Governo in tema di diritti umani calpestati a causa di un sovraffollamento ormai da anni non più sostenibile. Il primo cittadino sottolinea l'intollerabile aggravarsi dello stato di assoluta invivibilità a cui sono relegati i detenuti, una condizione che costringe anche il personale in servizio all'interno del carcere, di molto sottodimensionato rispetto alle esigenze della struttura, a condizioni di lavoro particolarmente difficili. Gli agenti della Polizia Penitenziaria sono spesso costretti a assunzioni di responsabilità che in condizioni di normalità non sarebbero di loro competenza ed in attesa dell'intervento del Governo i sindacati, Sappe, CGL, Cisla e Will hanno proclamato lo stato di agitazione del personale del sistema penitenziario. Grazie a tutti.